Sono Cosmo Gianfranco, segretario generale della Fille di Monzebrianza. La Fille è la categoria che si occupa del settore dell'edilizia, delle costruzioni in genere e del legno arredamento. L'urode delegati nei cantieri, ma come in tutte le aziende, è fondamentale. Il problema nel settore dell'edilizia è che la media delle imprese è di tre operai e conseguentemente abbiamo difficoltà a trovare delegati che si possano in qualche modo spendere per aiutare i loro colleghi. Sono solo nei grandi cantieri dove ci sono grandi aziende a poter fornire il sindacato, ma al contempo i lavoratori di un delegato in grado di tutelarli. Negli ultimi anni si è notevolmente sviluppato anche l'aspetto tecnologico all'interno dei cantieri, sia sotto l'aspetto proprio individuale sulla gestione dei materiali che aiutano il lavoratore, ma anche sull'aspetto di come produrre un bene. Tanto per capirci si è passati dai disegni, quelli su foglio, al CAD, ma adesso ci sono addirittura progetti tridimensionali. Il problema nei nostri cantieri resta sempre lo stesso, la sicurezza. Pur avendo un ente che fa formazione da questo punto di vista che è esencipti, la sicurezza non viene ancora applicata al 100%. Purtroppo abbiamo il triste primato di settore dove ci sono più incidenti e più incidenti mortali. Le cause principali sono purtroppo da tanti anni a questa parte le stesse, cadute dall'alto oppure si viene schiacciati in fase di scavo del cantiere, per cui non c'è una protezione adeguata, la terra si smuove e copre i lavoratori. Questi sono i due principali motivi di mortalità infortunistica. Poi abbiamo anche purtroppo il triste primato di morti per l'amianto. Fino a quando si vedrà la sicurezza come costo sul lavoro ed essere un costo da abbattere, non avremo la certezza che i lavoratori tornino a casa la sera. Inizio adesso stiamo andando dalla Boffi Cucine a un altro settore, un altro comparto, stiamo parlando di legno arredamento in questo caso. Mi chiamo Bisconti Mario, sono un delegato della CGL presso la Boffi S.p. Questa azienda si occupa di cucine e arredamento bagno. Facciamo tutto qui in questa sede, dalla fallegnameria alla ririciatura, al montaggio e alla spedizione. Penso di essere un delegato abbastanza stimato qua dentro in questa azienda e i miei colleghi mi chiedono svariate cose. Si passa dal 730 alla legge 104, dai permessi per congetto parentale all'ISE. Allora io gli prendo l'appuntamento con i vari funzionari, vado d'accordo quasi con tutti e tutti penso che apprezzino il mio impegno e il mio lavoro. Noi facciamo periodicamente delle riunioni come RSU e come RLS. Giriamo l'azienda, prendiamo tutte le segnalazioni che ci vengono date dai pericoli o da quello che può succedere, che ci può essere di strano in un'azienda e dopo le riportiamo alla direzione. Ci occupiamo di tutti e 213 dipendenti. Loro ci chiedono svariate cose e noi prendiamo questo impegno. Siamo stati eletti per questo ed è giusto che facciamo il nostro servizio. Ci occupiamo degli iscritti e anche dei non iscritti. Non facciamo differenze. Io sono Diana Lajer, lavoro per l'ADAC Service Italia, che è la filiale di ADAC, che è l'automobile club tedesco. Noi ci occupiamo di assistere i nostri soci che vengono in vacanza qua in Italia, sia dal punto di vista automobilistico, quando rimangono in panne, sia a livello medico. All'interno dell'azienda sono una delegata a Filcams CGL, Monza Brianza. Un delegato per aiutare i propri colleghi, per mia esperienza, deve essere presente. Ovviamente rispondere a quelle che sono le esigenze che possono nascere, facendo anche un po' da filtro. Nel 2019 ci è stata comunicata una ristrutturazione aziendale che prevedeva uno spostamento di alcuni settori, alcuni reparti, dei quali fino a quel momento ci occupavamo, presso le altre filiali estere. Noi abbiamo, a parte scioperato ovviamente, abbiamo intrapreso percorsi istituzionali, abbiamo tentato un approccio anche internazionale. A livello nazionale ci siamo mossi con la stampa, quindi una sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Possiamo dire che il bilancio è positivo, perché i colleghi e le colleghe che se ne sono andati dall'azienda se ne sono andati volontariamente con meno amaro in bocca rispetto a un licenziamento forzato. All'interno proprio della nostra azienda, anche in Germania, siamo stati i primi a fare un passo così coraggioso, cioè quello di scioperare, di segnalare forte e chiaro che non eravamo d'accordo. Ci ha fatto guadagnare anche a livello proprio europeo, da parte dei colleghi delle altre filiali estere, sicuramente rispetto. Se si combatte in maniera onesta e corretta per una cosa che si ritiene giusto, comunque i risultati arrivano. La soddisfazione più grande è stata presentarmi a livello europeo, di nuovo agli stessi tavoli, ai quali l'anno scorso ho trovato poca solidarietà. Invece ricevere la richiesta di solidarietà, proprio in nome dell'esempio che noi l'anno scorso abbiamo dato. Questa è stata sicuramente una delle soddisfazioni più grandi. Io sono rimasto veramente sconvolto quando ho sentito che praticamente fino al 1966 il licenziamento poteva essere fatto ad nutum. Il lavoratore da un giorno all'altro poteva ritrovarsi tranquillamente senza un lavoro, senza un motivo valido. Cioè questa cosa è veramente assurda. Sono Michele Musano, lavoro in Capsulate S.p.A., un'azienda di Roncello e sono delegato RSU da cinque anni. Un delegato oggi come oggi è una figura centrale in azienda. È diventato sempre più un punto di riferimento, soprattutto dopo la crisi pandemica che abbiamo vissuto tutti nel 2020. Al lavoratore vanno date informazioni. Lui ricerca informazioni e cerca di conoscenza. È sempre più consapevole di non essere un ingranaggio, bensì di far parte del tutto e in quanto tale può migliorarlo e può peggiorarlo, ma dipende sempre dalla sua volontà. La Fium CGL, Brianza, ci sta dando l'opportunità di entrare nelle aziende in qualità di delegati, nelle aziende cosiddette non sindacalizzate, in cui non è presente l'RSU, in cui ovviamente non è presente contrattazione di secondo livello. Noi entriamo e portiamo quella che è la nostra identità. Il bello dove sta è che noi effettivamente dando del tuo al lavoratore facciamo emergere quelle che nel gergo vengono chiamate criticità, ma in realtà non è nient'altro che la quotidianità in azienda. Creiamo un percorso con il lavoratore stesso, quindi si parte dalla conoscenza, passando ovviamente per il tesseramento, che è la base, quello che dà vita alla CGL stessa, fino alla creazione dell'RSU. Creare l'RSU è il lavoratore che si rende consapevole di quelli che sono i propri, non solo doveri, ma anche diritti, che vuole saperne di più, che vuole confrontarsi, creare un ponte, un dialogo con la dirigenza stessa, affinché il lavoro non sia fatica. Non è un percorso semplice, perché bisogna riacquistare la fiducia del lavoratore che magari negli anni è andata persa, per mille e mille motivi. Fino a quando il lavoratore continuerà a porre delle domande, vorrà dire due cose. Che il lavoratore vuole essere informato e consapevole, e che il sindacato ha un significato. Quando io ottengo una soluzione, la ottengo per tutti. Al di là del fatto che tu sia partecipe o meno, o scettico o meno, quando si ottiene qualcosa di più, la si ottiene per tutti. È il principio della democrazia. Mi chiamo Massimiliano Pavan, ho 41 anni, sono delegato nell'azienda Network Contacts di Concorezio, un corso center in outsourcing. Ci occupiamo di servizi alle aziende in appalto, quindi i nostri clienti, i committenti, sono prevalentemente in ambito bancario e finanziario. Faccio delegato per effetto di un passaggio, ho avuto una clausola sociale, vengo da Milano. Grazie alle lotte proprio del sindacato, ho potuto mantenere il mio posto di lavoro e trasferire il mio concorezzo. Da lì ho iniziato a sindacalizzare questa azienda e a far crescere un gruppo di persone con delle giuste idee. La mia prima testa sindacato risale al 2008. C'era già il sindacato in azienda in realtà, ma non la CGL, c'era un altro sindacato. L'idea di fare un sindacato migliore, diverso, mi ha portato poi a tante altre prime tessere, di colleghi, lavoratori e poi anche nella vita privata, ad amici. Il mio lavoro quotidiano per aiutare le lavoratrici e i lavoratori che sono in azienda è quello di fornire una continua informazione su quello che accade, sia in azienda ma anche nel mondo esterno. Quello che faccio poi nel concreto sono operazioni quotidiane, possono essere aiutare a trovare il giusto turno, quando c'è troppa pressione operativa, trovare soluzioni con l'azienda per migliorare le condizioni di tutti noi lavoratori. Se devo pensare a un momento che ha cambiato, che mi ha emozionato e ha cambiato il modo di vedere la nostra attività sindacale, è stato quando i miei colleghi, quando per la prima volta ho firmato un accordo di clauso sociale, cioè di passaggio a parità di condizioni da un'azienda a un'altra, perché l'appaltatore ha cambiato il fornitore fondamentalmente. Questo è un momento decisivo perché fino al momento prima, quando perdiamo un appalto, dovevo salutare i colleghi che lasciavano l'azienda e da quel momento in poi invece i colleghi ho iniziato a salutarli non perché lasciavano l'azienda, ma perché ogni giorno erano a lavorare di nuovo con me nella nuova azienda. Quello che apprezzo particolarmente della CGL è che sia un'organizzazione fatta di donne e di uomini che lavorano o che hanno lavorato, anche se non lavorano più. Quindi le categorie, i pensionati, tutti questi pezzi stanno tutti quanti insieme. Questo ci permette di analizzare quello che succede oggi senza dimenticarci quello che è successo nel passato e come è stato affrontato. Per me fare parte di un'organizzazione come la CGL è la vita praticamente, vuol dire realizzare tutto il bene che penso e poterlo mettere in pratica ogni giorno sul luogo di lavoro e nella nostra camera del lavoro. Sono Ermanno Donghi, segretario generale della Filtem CGL Monza e Brianza. Nel mondo del lavoro la pandemia ha inciso e anche i costi energetici stanno incidendo. Il primo settore, ad esempio, è quello del chimico farmaceutico. Questo settore, a differenza di altri, invece è stato un settore in espansione in quanto in questi periodi ha assunto parecchie persone perché c'era l'esigenza di, da un lato, andare, visto che abbiamo una grande azienda che fa anestetici, ad assumere persone che producessero questo prodotto e dall'altro abbiamo anche aziende che fanno i vaccini e quindi anche lì un'assunzione importante di persone che fanno vaccini. Uno dei settori che ha impattato in maniera molto profonda è quello del vetro, perché i costi di energia sono esplosi. Noi abbiamo qua alcune retta importanti. È chiaro che lì la situazione è davvero preoccupante. Abbiamo un'azienda che ha tentato di trovare nuove tecnologie di produzione di energia, ad esempio utilizzando l'ossigeno. Abbiamo altre aziende invece in grande difficoltà perché ha difficoltà nel reperire la materia prima e nel costo legato alla produzione e questi sono altri elementi che ci fanno preoccupare. Io ho iniziato da delegato la mia esperienza all'interno dell'organizzazione CGL. Sono uscito a fare attività ormai da più di 30 anni, direi che ho qualche annetto alle spalle e ce l'ho e devo dire che è un orgoglio, non è un lavoro, è un valore che ti porti dietro quotidianamente. In realtà a me la retorica dell'eroe non è mai piaciuta perché è come se si pensasse che il dipendente del sistema sanitario pubblico sia qualcosa di astratto e non reale. In realtà i lavoratori non stanno bene perché hanno dovuto affrontare due anni veramente molto pesanti con turni ininterrotti, salti riposo e l'affaticamento fisico ma soprattutto psicologico perché i morti sono stati veramente tanti li ha messi veramente a dura prova. Dal punto di vista più del servizio, noi della funzione pubblica ci siamo resi conto ma lo denunciamo anche da tanto tempo che il sistema sanitario così com'è non funziona. I lavoratori ce la mettono tutta perché chi sceglie di fare questo mestiere ha un forte senso di responsabilità. Il problema è che sembra che siano gli unici ad assumersi questa responsabilità. La gestione della sanità lombarda pare non rendersi conto di questo problema come tutta la politica in generale. Spesso sono anche oggetto di continue critiche da parte dei cittadini che non comprendono che in realtà molto non dipende dai lavoratori, dipende da tutto il sistema che ha delle forti falle sul quale bisogna urgentemente intervenire. Due anni di importante lavoro perché il nostro obiettivo era non far sentire solo nessuno e il risultato ci ha fatto scoprire che effettivamente questo è quello che è avvenuto. Con le elezioni dell'RSU che ci hanno visti essere il primo sindacato nel settore del pubblico, soprattutto in sanità. Le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici in realtà sono sempre state molto alte ma è perché noi siamo la CGL quindi dalla CGL si aspettano sempre quello che noi definiamo i miracoli. In realtà a volte ce la facciamo però a volte magari non riusciamo a portare a termine i nostri obiettivi come ci eravamo prefissati di fare. La CGL o ce l'hai dentro o altrimenti cambia mestiere non fare il mestiere, non fare questo lavoro. Il servizio controllo pensioni nasce 14 anni fa per una esigenza dello SPIGGL dove io faccio parte cioè il sindacato pensionati italiani della CGL. In pratica le persone vengono da me per avere chiarimenti sulla pensione. La cosa più semplice è il neopensionato che vuol sapere se la pensione sua è stata fatta con tutti i crismi possibili. Mentre coloro che sono già pensionati logicamente non hanno chiarezza di tutti quelli che possono essere i cosiddetti diritti inespressi. I diritti inespressi possono essere la quattordicesima che qualcuno non riesce ad ottenere o non sa neanche di poter avere come diritto le varie maggiorazioni specialmente in quest'anno i vari bonus che sono stati determinati dai decreti aiuti. Comunque in generale il nostro lavoro è quello di recuperare soldi sulle pensioni dei nostri iscritti. I pensionati vanno in piazza a protestare per avere i propri diritti se no non si raggiungerebbero quegli obiettivi che ci siamo dati. Se no ritorniamo ad essere coloro che tramite i vari governi non percepiscono ma perdono il valore della loro pensione negli anni. Noi quello che dobbiamo fare e stiamo facendo è cercare che il pensionato abbia degli incrementi e non della svalutazione della propria pensione. Io sono Aldo Biffi sono il presidente di Diritti Insieme associazione che si occupa di migranti tendenzialmente noi abbiamo incentrato la nostra attività su quelli che sono i corsi di italiano. Diritti Insieme nasce dalla volontà di alcuni personaggi di rilievo della CGL. Possiamo dire quindi che Diritti Insieme è di fatto un'associazione completamente indipendente ma nello stesso tempo è una costola della CGL. Sviluppando le nostre attività all'interno dei locali della CGL facciamo conoscere alla nostra utenza quello che è il sindacato e sappiamo dove indirizzare queste persone nel momento in cui hanno bisogno di sviluppare pratiche di tipo diverso. L'associazione vive perché ci sono al momento ben una trentina di persone che svolgono la loro attività di volontariato presso di noi. Una delle soddisfazioni maggiori che si hanno nello svolgimento della nostra attività è proprio la relazione che riusciamo a instaurare con i migranti che partecipano ai corsi. Si creano proprio dei rapporti umani molto belli. Adesso la scuola Zara di San Rocco abbiamo a fine corso tenuto una festa dove appunto abbiamo potuto vedere a tutti gli effetti quello che era l'entusiasmo dei partecipanti ai corsi e quella è la cosa che ti gratifica di più con la tua attività di volontario. Grazie, grazie davvero a tutte e tutti voi per essere qui questa mattina per aver lavorato in questi giorni per far uscire uno sciopero difficile perché nel paese ancora si parla troppo poco dei contenuti di questa manovra. Sono Angela Angela Mondellini sono la segretaria generale della Camera del Lavoro di Monzebrianza. La segretaria generale ha sempre tante soddisfazioni a volte anche qualche delusione però questo non ci deve mai abbattere perché dobbiamo essere sempre all'altezza delle persone che in noi credono e che tutti i giorni confidano che nella CGL si possono trovare le risposte giuste. La CGL Monzebrianza è una grande rete fatta di donne e di uomini delegate, delegati, attiviste, attivisti, tutte persone che sul territorio cercano di dare risposte ai tanti problemi. Le delegate e i delegati sono la prima faccia della nostra organizzazione sono le donne e gli uomini che volontariamente prestano la loro attività a favore dei propri colleghi, delle proprie colleghe. Sono chi incontriamo alla macchinetta del caffè, fanno un lavoro prezioso e straordinario e lo fanno con i valori che la CGL ha, l'accoglienza, la solidarietà, l'uguaglianza, lo fanno tutti i giorni con grande passione. L'idea che stiamo cercando di portare avanti è che chiunque si rechi in una sede del sindacato possa avere delle risposte. Ci proviamo, cerchiamo di fare il massimo. Nell'accoglierli ci sono sempre i nostri volontari, le nostre volontarie che con grande generosità vengono qua, dedicano del tempo agli altri. È una cosa fantastica. Per me la CGL è una parte fondamentale della mia vita perché dà un senso alle cose che ciascuno fa, dà un senso anche alla fatica quotidiana, dà un senso all'alzarsi la mattina. Non c'è cosa più bella di poter venire qui ed aiutare gli altri. Io mi ricordo ancora quando abbiamo dovuto chiudere la camera del lavoro perché c'era stato un caso di Covid. Quello è un momento che non mi dimenticherò e insieme a me c'era la mia amica Eliana e molti altri compagni ed è stato molto difficile. Il giorno che è stato denunciato il primo caso venendo qua mi sono domandata ma cosa devo fare adesso? Cosa dobbiamo fare? E mi ricordo sono arrivata molto presto, c'era il direttore dell'Inca, c'era Walter, Palvarini e i volontari che non se la sentivano di fare accoglienza quel giorno e allora io e Walter siamo andati fuori noi. Abbiamo portato tutto fuori, abbiamo fatto l'accoglienza fuori. Mi ricordo bene perché faceva un gran freddo e c'era un gran vento gelato e io per giorni ho avuto tutta la faccia rovinata dal freddo. Monza e Brianza è un territorio molto vicino alla metropoli e a volte chi viene da fuori lo confonde. Invece c'è una caratteristica, una cifra fondamentale di questa provincia ed è la capacità di trovare soluzioni, di stare insieme, trovare soluzioni, lavorare, essere pragmatici ma anche un po' sognatori. In questi quattro anni nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto attraversare per la pandemia abbiamo fatto davvero tantissime cose. Io sono veramente orgogliosa delle cose che siamo riusciti a fare nonostante le difficoltà. Dobbiamo continuare così a provare a immaginare nuovi percorsi, nuove strategie, nuove modalità per stare sempre di più vicino alle persone e sul territorio. Io sono certa che nei prossimi quattro anni saremo in grado di fare altre cose sempre innovative, sempre nel segno della solidarietà cercando di essere quello che siamo, una grande squadra, una grande rete. in grado di essere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sono stata abbandonata dai miei genitori per questo sono in Italia No scherzo, allora andiamo avanti Insomma alla grande Allora una cosa ti devo chiedere Ecco, lo sapevo che me l'avresti detto perché era d'accordo anche a Giorgio Va bene Ma cosa vuoi dire dopo? Niente, volevo dire che... No, niente No, volevo dire che alla fine sono generale ma non sono il generale Ho mosso un po' la testa No vabbè ma un pochino ci sta Ci sta, eh se no... Un pochino di naturalità Eh sì, va bene Eh sì, va bene Troppo, troppo no Sì, sì, va bene No, ci può stare No No vabbè, prova a ritornare Ma me la so scordata Va bene Il nostro settore dei call center è un settore dove queste cose accadono Le intelligenze artificiali che rispondono al telefono sembrano una follia fantascientifica In realtà sono la verità di oggi Già fino a quando mi piaceva, eh Basta, possiamo anche finirla qua Approfittiamo del telefono che suona Allora andiamo, sei pronto per andare? Guarda che dobbiamo arrivare, guarda che il corso comincia adesso per cui dobbiamo andare Scusami se così ti dico tutto subito Ok, vai, vai, no dimmi, te ne sono chi? È un pochino, sì, ma non tantissimo Ah ok Viene quanto lo fai, se lo fai tanto va bene Ok, no, perché se non lo fa venire La gente non ti ascolta più e guarda solo quella roba là Ma basta dirmi, io è veloce Altro settore importante presente nel nostro comparto è quello del tessile invece Ciao